buongiorno amici e amiche di innova news 24 parte l'isola dei famosi ormai ci siamo vladimir luxuria conduttrice si parla di sonia bruganelli come opinionista ci sono tantissimi naufraghi da matilde brandi a ovviamente stoppa il l'inviato di striscia la notizia ma attenzione perché proprio quello che potrebbe succedere è davvero dell'assurdo c'è qualcuno che parla di beatrice luzzi come opinionista ovviamente non è una notizia ufficiale amici di nuova news 24 ma siete proprio voi che la volete a tutti i costi la state acclamando come opinionista ovviamente la luzzi è molto attenta a quello che succede alle dinamiche potrebbe essere un opinionista con la o maiuscola e siamo in questo caso d'accordissimo con voi quindi amici di nuova news 24 siamo d'accordo con voi sul sulla possibile sua operabilità ottima nel ruolo di opinionista di beatrice luzzi ma non siamo d'accordo sul fatto che lo possa diventare sembra davvero una possibilità molto remota sembra difficile che possa diventare ovviamente opinionista lei che comunque adesso crede che lunedì ci sia la finale del grande fratello non ha capito ancora come la vera situazione ancora andrà per le lunghe il grande fratello e probabilmente si andrà verso metà aprile diteci cosa ne pensate voi amici di nuova news 24 intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su continuate a scriverci sull'opinionista luzzi beatrice e seguiteci sempre su nuova news 24 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 10 10 11 11 12 12 13